Proseguono i controlli dei carabinieri della compagna di Siniscola sul versante della repressione del fenomeno delle attività in nero o irregolari. I militari delle stazioni di Orosei e di Santa Lucia hanno scoperto un'officina abusiva che era stata posizionata all'interno di un cortile coperto di un'abitazione di Orosei. Le indagini sono partite dopo l'osservazione di un via vai di motorini che provenivano dall'area in cui sorgeva l'officina. I carabinieri hanno proceduto a un'ispezione e hanno denunciato un 39enne di Orosei che aveva allestito una vera e propria officina abusiva. All'interno del cortile di proprietà della famiglia dell'uomo, i militari hanno trovato vernice diluenti, scarto dell'attività di riparazione e verniciatura dei ciclomotori, ma anche diverse carcasse di veicoli ormai in uno stato tale da considerarsi rifiuto speciale. Il responsabile dell'officina abusiva è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di attività di gestione rifiuti non autorizzata, previsto dalla legge 152 del 2006. Inoltre, per la mancanza delle autorizzazioni per l'autoriparazione e la non iscrizione nel registro delle imprese, secondo quanto previsto dalla legge 122 del 1992, i carabinieri hanno combinato al responsabile una sanzione pecuniaria di circa 5.000 euro. Grazie. Grazie.